Mi chiedo, ma com'è possibile che tu fai una conferenza stampa per presentare una manovra votata all'unanimità di cui sei tanto fiera e poi ti incazzi come se quella manovra l'avesse fatta a Landini? Forse non l'hanno letta, ma non potevate leggerla? Perché la manovra teoricamente andrebbe letta, quantomeno sfogliata, perché l'impressione è che al governo capiscano quel che fanno solo dopo aver visto la Gruber. Ma scusi, ma lei non l'ha letta? Perché andava letta? Scusi, l'ha presentata in conferenza. Ma me lo devi di prima che balletta, io ero fiera. Ma certo che va letta una manovra. Ma secondo te io leggo la manovra? Ma come no? Ma Salvini, legge? Tagliani, legge? E dai, su, e dai, su. Ma come? Ma scusi? Non puoi chiedere a uno di destra di leggere? Ma sì, dai. Ma da quando?